I carabinieri delle stazioni Parco di Mezzocampo, Savelli e Zagarise hanno tratto in arresto un 31enne di Petilia Policastro SC per furto aggravato di materiale legnoso. Durante un controllo in località Manca del Cervo i militari hanno notato la presenza dell'uomo mentre con una motosega tagliava della legna e la caricava su un fuoristrada per poi allontanarsi. I carabinieri che erano appostati a distanza sono intervenuti lungo la strada per bloccarlo ma il 31enne non si è fermato e ignorando l'alt della pattuglia è tornato nuovamente a bordo del mezzo allontanandosi a tutta velocità. Successivamente con l'aiuto di una pattuglia della radiomobile di Petilia il 31enne è stato nuovamente rintracciato presso la sua abitazione. Sul veicolo sottoposto a controllo c'era la motosega con il motore ancora caldo e nel cassone della legna di Ontano e Faggio che si è accertato essere stata trafugata in località Manca del Cervo, area questa che ricade in zona 1 di massima tutela ambientale del Parco Nazionale dell'Asila di proprietà del demanio dello Stato. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e dopo le formalità di rito ha disposto la rimessa in libertà dell'uomo.